Guasto all'Occhedotto di Pesaro, all'alba ripristinato ogni servizio. Non si ferma la protesta dei trattori, terzo giorno di presidio. Incidente a Montelabate, anziano soccorso in elieambulanza. Torna la giornata di raccolta del farmaco a sostegno dei bisognosi. VL Costa ufficializza l'addio a fine stagione. Benvenuti al nostro Rossini News. Oggi è mercoledì 7 febbraio, apriamo questa edizione occupandoci della rottura dell'acquedotto di Pesaro di una delle principali condotte idriche della città. Dopo un lavoro non stop da ieri pomeriggio a questa notte il guasto è stato riparato e l'erogazione dell'acqua è tornata alla normalità soltanto all'alba. In questo primo servizio quindi andiamo ad approfondire quanto accaduto. Fra l'una di notte e le 6 di questa mattina è stata ripristinata l'erogazione dell'acqua in tutte le zone di Pesaro rimaste a secco a partire dal pomeriggio di ieri, in seguito alla rottura della condotta idrica in uscita dal serbatoio di San Gaetano in zona Villa Fastigi. Un serbatoio collocato a pochi metri dal ponte dell'autostrada 14 che attraversa l'interquartieri. Questa mattina la cabina impianti vedeva in regolare funzione la nuova valvola di scambio dopo che ieri sera è intervenuta pure un autogru per sollevare e rimuovere il vecchio componente danneggiato del peso di oltre 60 quintali. Un pomeriggio, una sera e una notte di lavori per marche e multiservizi intervenuta con tutto il personale a disposizione per ridurre i disagi. L'acqua è mancata a macchia di leopardo in buona parte dei quartieri di Pesaro. Attorno all'una di notte si è cominciato il ripristino dell'erogazione, poi completata all'alba. Ieri pomeriggio abbiamo avuto una rottura sulla condotta che esce dal principale serbatoio di Pesaro e che alimenta tutta Pesaro. Una rottura su una valvola che pesa 70 quintali in un ambiente confinato, quindi con delle difficoltà operative importanti. Siamo intervenuti con il nostro personale, con una dozzina di uomini, otto mezzi, chiamando anche una ditta specializzata per estrarre una valvola così pesante. Abbiamo cercato di rimitare per prima cosa i danni, quindi isolando le zone limitrofe, quindi assicurando acqua alle zone limitrofe e togliendo l'acqua soltanto alle zone indispensabili. In realtà, come spesso accade, una parte di Pesaro ha continuato per fortuna ad avere l'acqua fino al pomeriggio, anzi alla sera di ieri, in altre l'acqua è andata via prima. Poi gradualmente l'acqua, una volta terminato l'intervento, è stata ripristinata in tutta la città. Si è trattato di un guasto alle condotte assolutamente inusuale. Questa è una valvola vecchia, che ha oltre 40 anni, quindi una fallanza ogni tanto può capitare. Questa è la prima volta che è successa una cosa di questo tipo. Per fortuna però la macchina operativa è riuscita a intervenire tempestimamente, cercando di limitare i danni. Abbiamo col telecontrollo monitorato sempre la situazione e cercato appunto di creare il minore disagio possibile. Condotte vecchie, sulle quali esiste una prospettiva da modernamento. Abbiamo fatto dei programmi di manutenzione importanti e stiamo aspettando il via del PNRR per poter dare inizio a tutta una fase di rinnovamento reti, di ottimizzazione della distribuzione dell'acqua, ma anche per la digitalizzazione, per avere sempre delle strutture più efficienti. Continua la protesta dei trattori a Pesaro. Dopo il corteo di lunedì, tanti agricoltori restano in presidio fisso al casello autostradale, invocando mosse concrete dal governo. Continua la protesta dei trattori al casello autostradale di Pesaro. Dopo il corteo di lunedì, quello di oggi è stato il terzo giorno di un presidio fisso che continuerà fino a venerdì. Intanto i manifestanti hanno consegnato un documento con le loro richieste al prefetto. Tanta la solidarietà dei passanti e dei cittadini nei loro confronti, così come tanto è lo scetticismo nei confronti della politica e dell'Unione Europea. Onestamente alle promesse della politica ci crediamo poco, perché sono 30 anni che vanno avanti e oggi i fatti sono pochi. Anzi, gli ultimi due anni hanno dimostrato che sono tutta aria fritta. I sussidi sì sono importanti, ma noi vogliamo, la nostra protesta è perché noi vogliamo aver riconosciuto un prezzo equo. La filiera deve essere ridistribuita, deve essere ridiscussa. Al prefetto abbiamo chiesto di poter partecipare ai tavoli tecnici, perché noi siamo per smettere di produrre sotto costo, perché è questo che stiamo facendo, e siamo per garantire un prezzo più equo al consumatore. Questo è possibile. Innanzitutto vogliamo controlli che avvengano seriamente da enti pubblici sui prodotti che vengono importati, perché deve esserci un chiaro tracciamento per il consumatore. Noi vogliamo che il consumatore sia ben consapevole di quello che arriva sulla sua tavola, perché oggi non è così. Chiediamo lo snellimento della burocrazia, chiediamo che non ci venga imposto cosa coltivare, anche perché ne va a discapito della produzione e va a vantaggio della speculazione, perché meno produciamo, più aumenta la speculazione dell'industria e di tutti gli intermediari che ci sono tra noi e il consumatore finale. Tanta solidarietà da parte dei cittadini, c'è stata la distribuzione di cibo da parte dei cittadini e molte delle auto e dei camion che passano suonano il clacson come da indicazione data dai cartelli. È bellissimo, sì sì. È molto gratificante e allo stesso tempo, posso dire, sensibilizza molto la cosa, perché la gente forse non si rende conto di quello che arriva nelle loro tavole, sia come prezzo e sia come qualità. Perché noi in Italia abbiamo certe restrizioni che in altri paesi non hanno e allo stesso tempo il nostro prodotto non lo possiamo coltivare perché si dice che fa male e non ce lo fanno coltivare e allo stesso tempo lo portano dagli altri stati che questi vincoli non ce li hanno. È il Made in Italy, il nostro prodotto è di una bontà infinita. Io cercherei un po' di puntare, di sensibilizzare la gente, far vedere dov'è il problema e cercare di cambiare, di avere veramente un bel cambiamento. Ed ora cambiamo argomento. Una Fiat Punto guidata da un uomo di 88 anni è finita in un fossato nella frazione Apsella di Montelabate. L'incidente per cause in via d'accertamento è avvenuto attorno alle 11 di questa mattina con l'auto che si è rovesciata ferendo gravemente l'anziano che è stato poi soccorso dall'eliambulanza e ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, quindi vi invitiamo a mandarci messaggi video al 370-366-7210. In questo caso andiamo a vedere le immagini che ci manda un residente di Cattabrighe e ci racconta di queste tre querce collocate su via Panaro, reputate pericolose in quanto mai potate da anni e in alcuni casi si tratta di piante malate con rami e tronchi secchi ritenuti a pericoloso rischio caduta per chi transita nella stessa via, soprattutto in caso di maltempo. La segnalazione invoca un intervento di messa in sicurezza di Verde Urbano rimandato da anni. Da oggi fino a lunedì 12 febbraio in 5.000 farmacie italiane viene chiesto ai cittadini un gesto di solidarietà nel donare uno o più medicinali da banco per bisognosi e famiglie in difficoltà. Ventiquattresima giornata di raccolta del farmaco che anche a Pesaro vedrà coinvolte 51 farmacie che raccoglieranno medicinali da donare a decine di enti caritatevoli del nostro territorio. Anche quest'anno nella nostra provincia siamo in prima linea con ben 51 farmacie che hanno aderito alla iniziativa, farmacie che sono abbinate a enti del territorio. Gli enti sono 29 quindi avremo veramente bisogno della generosità di tutta la popolazione di Pesaro e della provincia per aiutare gli indigenti di questi enti. Non abbiamo dubbi su questa generosità perché chiaramente si sono distinti anche negli anni passati perché ormai qui a Pesaro e provincia siamo alla ventitresima edizione del Banco Farmaceutico quindi abbiamo proprio cominciato tutti insieme e ringrazio proprio anche i farmacisti che ogni anno dicono loro sì. Sappiamo che purtroppo la crisi economica è sempre stabile nella nostra nazione quindi gli enti hanno sempre più necessità di farmaci perché gli indigenti aumentano sempre più perché non sono solo quelli italiani ma arrivano anche dai luoghi di guerra. Come consigliere comunale sono molto contento di poter contribuire a questa bellissima realtà che è il Banco Farmaceutico. Nel lavoro insieme in questi cinque anni siamo riusciti a coinvolgere le farmacie comunali che ora fanno parte delle tante farmacie che in tutta Italia aderiscono a questa bella iniziativa nelle quali è possibile andare ad acquistare un farmaco e donarlo alle persone che hanno bisogno. Siamo riusciti inoltre anche a estendere e allargare la rete delle tante associazioni che ricevendo i farmaci dal Banco Farmaceutico poi le donano alle persone che hanno bisogno. Notizia di quest'anno è il coinvolgimento di una nuova associazione che è l'associazione degli amici di Andrea, molto conosciuta a Pesaro e molto preziosa perché dà un contributo importante di sostegno alle famiglie e alle persone che sono in stato vegetativo. Credo molto in questa politica sussidiaria e di solidarietà ed è il motivo per cui mi spendo quotidianamente come consigliere comunale. Ed ora uno spazio dedicato alle iniziative di Pesaro Capitale della Cultura. Oggi parliamo di teatro, in particolare del Teatro Rossini dove in questi giorni l'attore e regista Antonio Latella sta tenendo la bottega amletica testoriana. Vediamo. Numero 736 milioni 29 mila io, 836 milioni 45 mila io e tu? Nell'elenco del computer disposto, sociale, a fuoco, sulla schiena, per sempre, tutti fumo così cognominati, il vero nome e verbo ci fu nelle schede complesso. Si chiama BAT, o meglio, bottega amletica testoriana. È il progetto curato da Antonio Latella che si inserisce nel programma di Pesaro 2024 con l'obiettivo di mettere in relazione attrici e attori con la poetica di Giovanni Testori nel centenario della sua scomparsa. L'idea di un progetto vasto che trova appunto la sua collocazione in Pesaro Capitale della Cultura proprio perché parte dall'idea di cultura come formazione, come ricerca soprattutto. È una ricerca che è iniziata un anno e mezzo fa, che un grande maestro della scena come Antonio Latella ha costruito, ha voluto, assieme ad otto giovani attori selezionati tra 605 che hanno risposto alla call del febbraio scorso. E quindi l'idea che appunto per un anno si potesse vivere come sta accadendo fino alla condivisione con il pubblico, con le parole di un grandissimo autore come Giovanni Testori, per sperimentare quali forme il teatro può prendere oggi e quale può essere il rapporto con lo spettatore, messo in discussione già sin dall'inizio perché abbiamo selezionato anche otto spettatori che hanno accompagnato tutto il progetto. Sarà addirittura una settimana a disposizione, dalle 18 alle 22, il teatro Rossini sarà aperto a disposizione di chiunque. Abbiamo previsto tra l'altro un biglietto cortesia di soli 3 euro perché ci teniamo proprio che tutta la città venga a osservare questi percorsi di formazione accorgendosi della bellezza appunto che può nascere in questo teatro che vedrà in una dimensione diversa perché sarà lasciato appunto a vista un luogo di condivisione, di comunità rispetto a questo atto teatrale inconsueto ma sicuramente carico di emozione sicuramente. I 45 progetti del dossier di Capitale della Cultura, un progetto veramente avanzato anche in termini di ricerca, di ricerca teatrale, centinaia di candidature per arrivare a otto giovani attori selezionati che in un anno e mezzo di lavoro arrivano alle giornate oggi di Pesaro passando per la collaborazione e le sedute tenute anche al piccolo di Milano che è co-produttore del progetto e che attraverso il lavoro sui tre testi amletici di testori di cui ricorreva anche il centenario della nascita ribaltano alcuni dei canoni soliti della rappresentazione teatrale. Quello che faremo sarà interpretare i tre testi con i loro linguaggi e quello che faremo durante il lavoro sarà invertire le parti e cercare di lavorare sui tre testi con i tre linguaggi differenti. La cosa bellissima di questo lavoro è che ti permette di fare delle prove sugli spettatori nel senso che hai prove delle scene, delle cose all'interno delle prove chiuse e poi a un certo punto puoi avere un riscontro, fare un riscontro con gli spettatori. Secondo me per gli spettatori è molto bello perché ti dà la possibilità di vedere che cos'è il lavoro di un attore che non è solo fare memoria o preparare la scena ma riflettere sul testo, fare degli esperimenti, invertirsi le parti. Ha tante sfaccettature che lo spettatore non vede e che abbiamo capito in questi mesi che appassionano molto in realtà. Infilzati in de sopra la corona le ferrame, infilzati le periù, i zaffiri, le incastonate pietre e gli incastonati esmeraldi e accompagna il tuo marito e il tuo cadavaro qui, in sul panno. Dal teatro alle presentazioni di libri proseguono gli incontri capitali di Pesaro 2024 organizzati in collaborazione con Passaggi Festival. Venerdì 9 febbraio alle ore 18.30 l'appuntamento a Palazzo Ciacchi, sede di Confindustria, sarà con Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat, nonché ex ministro del lavoro nel governo Letta e delle infrastrutture nel governo Draghi. L'autore presenterà il suo libro I ministri tecnici non esistono, intervistato dal direttore del resto del Carlino di Pesaro, Roberto Fiaccarini. Sabato 10 e domenica 11 febbraio tornano ad Acqualagna la fiera regionale del tartufo nero pregiato e il carnevale del tartufo. Si tratta della fiera specifica del tartufo nero pregiato che si raccoglie dal 1 dicembre al 15 marzo. Da sabato mattina saranno aperti in paese stand di tartufo e di altri prodotti tipici, oltre che di artigianato artistico locale. Domenica, in piazza Mattei, l'appuntamento è invece con il carnevale al tartufo, che dalle 15 vedrà la sfilata dei gruppi mascherati e l'originale lancio dei tartufi. Dal tartufo di Acqualagna passiamo alle tagliatelle di Novilara, che anche quest'anno deliziano il palato della Bit di Milano all'interno del padiglione e allestito dalla regione Marche nella prestigiosa fiera del turismo. Nell'occasione volontarie sfogline hanno servito tagliatelle con i fagioli, piatto tipico del ristorante di Novilara, il pergolato da Maria, e hanno promosso la dodicesima edizione di Novilara Arte e Gusto, in programma in estate dal 5 al 7 luglio. Marche in vetrina non solo alla Bit, ma anche al Festival di Sanremo, dove è presente la Camera di Commercio Marchigiana all'interno degli spazi del Villaggio Festival, promossi oggi due eventi tipici del febbraio della nostra provincia, cioè il Carnevale di Fano e le Settimane Rossiniane, che anticipano il compleanno di Gioacchino Rossini. Ed ora passiamo allo sport. Si è conclusa poco fa l'attesa conferenza del presidente della VL a Rio Costa, intervenuto alla Vitre Frigo Arena dopo la grave crisi di risultati della squadra bianco-rossa. Vediamo che cosa è emerso. Non mi sto dimettendo nel modo più assoluto. Sto semplicemente comunicando a tempo debito a tutti voi, a tutti i tifosi della nostra città, che al termine della fuori stagione sportiva lascerò il mio ruolo di presidente. Lo dico oggi per dare modo, tempo e tutto quello che serve per riorganizzare una nuova governance della VL. Dopo 12 anni a Rio Costa lascia la presidenza della VL. L'annuncio ufficiale è arrivato questo pomeriggio nella conferenza stampa indetta nella sala stampa della Vitre Frigo Arena. Nessune dimissioni anticipate come era emerso, secondo alcune illazioni a mezzo stampa che avevano preceduto questa conferenza stampa. Costa decide di annunciare con abbondante anticipo che a fine giugno non sarà più il presidente, ma da qui alla fine di giugno farà tutto il possibile per portare la squadra alla salvezza. Una decisione è quella di lasciare la presidenza che alleggiava nella mente di Costa già dalla scorsa stagione, ma che lo stesso presidente ha deciso e diventata estremamente concreta nell'ultimo periodo. La decisione è stata maturata dall'anno scorso. Dall'anno scorso dopo i play-off e la vittoria vinta con Milano avevo quasi maturato l'idea di fare basta, perché per me avevamo raggiunto il massimo della potenzialità di questa società, di questa squadra, in questo momento qua. Poi l'amore che ho per questa squadra, per questa società è tanto che mi ha detto no, dai non posso, perché ecco perché mi sentivo in quel momento lì che se lasciavo creavo un buco importante e non c'era il tempo necessario per coprirlo, perché era maggio, fine maggio, quindi non c'era... E quindi ho detto ok, vado avanti, però in quest'anno ho sempre giornata dopo giornata maturato il fatto che era arrivato il mio momento. Io voglio arrivare a fine anno, trovare tutti i sistemi immaginabili e possibili per cercare di aiutare la squadra a vincere le partite giuste per poterci salvare. Il tempo c'è, è difficilissimo, però il tempo c'è e i punti ci sono a disposizione, quindi faremo il possibile. In conferenza stampa, Ario Costa ha fatto presente come si farà il possibile, ma anche l'impossibile per portare la squadra alla salvezza, per non concludere questa lunghissima presidenza con una dolorosa retrocessione. A tal proposito ha stigmatizzato anche il comportamento degli arbitri, soprattutto quelli dell'ultima partita di Scafati, ritenuta inaccettabile e rispettosa per la VL. Quanto alla decisione di lasciare la presidenza, ancora prima che la stampa, naturalmente questa prospettiva è stata comunicata ai consorziati e a tutto lo staff, un ambiente che ora ha diversi mesi davanti a sé per pensare al successore di Ario Costa, ancora tutto da individuare. Ripeto, è una decisione che non si torna indietro, ma più che altro, insisto, ribadisco, lo ribadirò, io spero che i consorzi si metta subito al lavoro, insieme a sottoscritto, se hanno bisogno di qualsiasi tipo di consiglio, consulenza o qualsiasi altra cosa, io sono disponibile, ma che si mettono subito in moto a trovare un'alternativa, non tanto al Presidente, ma alla struttura della squadra, della società, dei vertici, per poter cominciare a lavorare da subito su quello che è il futuro. Il futuro è tutto da scrivere, sinceramente non ci sto pensando oggi, non so cosa dire, cosa farò, cosa posso pensare di fare, senz'altro 50 anni di pallaganestro non si può così abbandonare del tutto, però se ci riesco lo farò. Dal basket passiamo alla pallavolo, dove i nervi sono ben più distesi, la Megabox Vallefoglia infatti stringe la mano al Carnevale di Fano, apparecchiando un appuntamento all'insegna di allegria e divertimento che accompagnerà la partita di campionato di sabato pomeriggio al Pala Megabox di Pesaro. Megabox Volley e Ente Carnevalesca di Fano organizzano per sabato 10 febbraio al Pala Megabox di Pesaro il Tigers Day, ovvero una giornata di festa dedicata agli atleti della squadra biancoverde. A partire dalle 17 l'impianto sportivo peserese ospiterà un evento pieno di musica, allegria e sport che culminerà con la partita tra Megabox Vallefoglia e Savino del Bene Scandici, valida per la settima giornata di ritorno del campionato di pallavolo femminile di A1. Protagonista sarà il Voulon, maschera tipica del Carnevale di Fano, cui sarà affidato il tradizionale getto di dolciumi. Un prepartita che sarà anche aglietato dall'esibizione dal vivo della cantante Melissa Gliottone, vincitrice di The Voice Italy Kids e rappresentante italiana al Junior Aerovision Kids Contest. Sarà una bellissima giornata di festa con tanta gioia colore e non solo ma anche dolce, perché il Carnevale di Fano è il Carnevale più dolce d'Italia e quindi oltre alla felicità delle maschere del Voulon e della maschera del Carnevale di Pesaro ci sarà contraddistinto quindi dal lancio anche di dolciumi. Quindi la pallavolo sarà ancora più dolce e felice e ci auguriamo che ci sia tanta partecipazione perché è una partita per megavolle importantissima. In più quest'anno il Sindaco del Carnevale di Fano è Rabachenn, che è la maschera di Pesaro e quindi siccome il Carnevale quest'anno vuole un po' disturbare perché il tema di quest'anno è proprio il disturbo fuori dalle righe e dagli spazi, abbiamo pensato, anche per onorare Pesaro Capitale della Cultura, a questo sindaco che ha fatto un certo scalpore, però convinti che durante il Carnevale tutto si livella, come posso dire, non ci sono belli brutti, bianchi neri, ricchi poveri e non ci sono campanilismi. Quindi questa è la grande forza del Carnevale che dal 1347 ad oggi Fano si porta dietro. E continuiamo a parlare di Megabox Valle Foglia perché questa sera vedrete alle ore 21.20 una nuova puntata degli Occhi della Tigre e questa sera conosceremo la pallavolista Gaia Giovannini che è schiacciatrice. E poi alle 21.40 andiamo a vedere quello che è stato uno degli eventi organizzati dal comune di Petriano nella settimana dedicata alla Capitale della Cultura e quindi vedremo Gallo d'Oro Special Edition. Domani vi aspetto al consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa. Buongiorno Rossini puntuali alle 7.20. Saremo in diretta sul Canale 80 e sulla nostra pagina Facebook. E poi vi ricordiamo che domani è appuntamento del giovedì con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Domani insieme a Elisabetta Ferri conosceremo Marquise McDuffie, l'ala della Carpegna Prosciutto Basket e con lui ci sarà anche Raffaele Vitali, giornalista e opinionista. Scriveteci, commentate in diretta al numero che vedete in sovrimpressione perché domani potrete vincere la sciarpa ufficiale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. E allora grazie per essere stati con noi, rimanete connessi sul Canale 80, su Rossini TV. Io vi auguro buona serata e ci vediamo domani mattina alla rassegna stampa.